Sei spettacoli a partire dal 19 ottobre prossimo e fino al 30 novembre al Teatro Talia di Gualdo Tadino per la quinta rassegna di arte teatrale organizzata dall'Associazione Note di Teatro. Il plauso dell'assessore Gabriele Bazzucchi per l'impegno degli associati e la qualità della rassegna che prende avvio il 19 ottobre con la compagnia di Perugia Paltò in Le Canzoni della Radio. Prosegue il 26 ottobre con Improvvisata Compagnia di Latina, in scena con Chi non muore si ravvede. Quindi gli amici del Teatro di Colombella con La Doppia Verità il 9 novembre, Denis Teatri di Bologna con un pezzo forte da linguaggio gergale crudo Cristo della Suburra per poi proseguire con la lina gialla di Perugia e la commedia 30 secondi of love. Quindi chiudere il 30 novembre con la compagnia note di teatro che porta in scena l'opera di Machiavelli Clizia 2.0. Prezzo del biglietto singolo 10 euro, abbonamento per tre spettacoli 25, abbonamento per sei spettacoli 40 euro. Bisogna venire al teatro, perché il teatro, qualsiasi teatro, non mi riferisco solo al nostro. Il teatro come manifestazione culturale è insuperabile perché non è mai uguale a se stesso. Un film può avere 300 repliche, è sempre uguale. Anche quello del film di Ben Hurd dove c'erano i cavalli che correvano, i due che scommettevano. Stavolta quel cavallo mi pare più in forma. No, il cavallo nero vince sempre e il cavallo bianco non vince mai. A teatro può succedere il contrario. Anche perché per quanto il copione sia lo stesso, per quanto gli attori siano lo stessi, la regia sia la stessa, la scenografia sia la stessa, quello che viene fuori non è la stessa cosa. Poi se venite in un teatro come il Thalia, che è un teatrino piccolo, accogliente e all'italiana con i palchetti, con tutto quello che è, insomma è veramente un ninnolo, un confetto. Io dico sempre è una bomboniera e gli spettatori sono i nostri confetti. Quindi venite a farci sentire la vostra dolcezza. Venite. Grazie a tutti.